Benvenuti in questo nuovissimo videozzo Oggi siamo su Fortnite.io Per fare una nuova modalità Le gare, la corsa alle armi Proviamola, l'ho provata oggi in live Quando sto registrando questo video E tipo, tu non ci sono scuditi Devi fare più kill possibili e cercare Di sopravvivere in più lungo possibile Ok, proviamolo Tipo devo fare 40 kill per vincere Ok Purtroppo che ci sono una volta Alcune armi che a me non mi piacciono Tipo pompa Sì, però dammi tempo di rinascere Poi la cosa brutta è che non ti dà tempo Di rinascere Ok Beh, vedete? Ok, dai Ho già 3 kill, non mai sono un 43 Eh, vabbè Cioè Adesso devi Ok, adesso devi ricaricare Allora questo mi piace già di più, mi piace assai Devo trovare i giocatori Quanto è rimasto di vita Eh, eh, eh Ho già 5 kill Eh, il primo che arriva a 40 Forse il primo che arriva a 40 Ok Ok Già 5 Vabbè Vabbè Allora, sono 7 kill Non è impossibile Però si può fare Soprattutto se non si Ok Fuori No, questo cos'è? Questo cos'è? Che cacchio di armetta è quella? Eh, pistola pesante Vabbè Scusa, mio amico Ok, 31 Ok, vabbè Ho il P90 Ok È un Frenetica Ho 10 kill Ne ho 8 Eh, vabbè Dammi tempo di rinascere almeno a men Il problema è che le pompa a me non piace Le pompa a me non piace Cioè Gli altri fanno un danno incredibile Io non faccio Beh, grazie Ok Allora Undicesimo Il primo Vabbè Ok Me l'hanno rubato Sti infamotti Ok Ecco Col pompa da dietro 13 37 Non è male Ok, ucciso Ok Tutto un bordello Cioè È troppo casino 16 kill È 36 Vabbè Poi Ogni tanto Ogni tanto Scatta Ancora uno che mi spara? No Peccato Peccato Ci tenevo veramente 42 Duesimo Ho partito da 16 Ok Very good man 45 Ok Ora proprio il problema è trovarli gli altri Me l'hanno rubato 39 39 più 13 Trovo Tutti con tantissima vita Ora si sono uccisi tra di loro Stipirla Vabbè Muori Muori Vabbè Tre colpi di pompa Non muore E vabbè Termineto Ok Sto furba No Ok Ok L'unico colpo volante L'ho preso io E' forte Ma questo mi piace già di più Questo mi piace Lo preferisco già E mi ha preso Ma qua non c'è niente appunto Allora Vabbè Figurati 41esimo 41esimo Vabbè Scusa Facciamo un'altra 50 coin Grazie mille Gentilissimo Con 20 armi Devi fare 40 eliminazioni E 20 armi Per vincere Ok Perché tutto Ricaricare le armi Vabbè Quando vuoi Ok Scusa con un po' di allenamento Qua si diventi Ok Vabbè Dai Quarto con 4 kill Non male Non male Sono già partito Abbastanza bene Ok E vabbè I danni gratuiti Ok buono Ok Terzo con 6 kill E combattuta Muori Anche se mi back Anche quello da dietro Scusami Ok Sono quinto Con 6 kill Ero già messo bene Adesso Sono già messo Un filino peggio Vabbè Vabbè Che mi piacciono Che mi piacciono Che mi piacciono le farei Però E schiopa Il P90 Ok Il P90 Ok Mi ha ucciso Sono decimo Con 10 kill Il primo 14 kill 11 kill Ok Non si può fare Non si può fare Vabbè Intanto Mi prende i comandi Come vuole lui Questa cosa qua Mi fa arrabbiare Un pochino L'ho ucciso 12 kill Decimo Di nuovo Il P90 Questa mi piace Un botto Ok Di nuovo E questo Di nuovo Vabbè Quinto con 15 kill Il primo A venire Devo fare 5 kill E Il pompa Adesso è un problema Fare il kill Col pompa Perché non mi piacciono Ok Eh Col pompa Purtroppo Non mi trovo bene Un casino Di numeri Ok Bella Vabbè Ogni tanto Non va Ogni tanto Mi si incricca La visuale Ero da quinto A decimo Vabbè Terminator Col pompa Mi sciotta Che angia Eh Impossibile Si ammazzano Tra di loro Vorrei cambiare Arma Mi sono rotto Le scatole Di fare Kill Con quest'arma Qua Di fare 2 kill Oh Ho ucciso Ucciso 24esimo Con 22 kill Che è questo Fatti i cavoli Tuoi No E sciopa Posizionato 23esimo Ok Facciamone ancora una E poi vediamo 26 kill Un fottio E mezzo Di danni Riproviamoci Devo fare 40 eliminazioni Con 20 armi Ah già è partita così a fuoco Dimmelo che parte Purtroppo così parte a fuoco Cioè non ti da un tempo di Ok Ah vabbè Diecimo con 5 kill Che ansia Una sudata incredibile Vabbè Ok qui Qui Ok Very good E sciopa Che ansia Che ansia Basta Pistolina Basta Voglio armi pelle Voglio mitraione Sono trentesimo Cioè Vabbè Poi mi riapre Oh Alleluia Adesso ci divertiamo Ci divertiamo fino a un certo punto Che con una mitraghetta Mi sta bene Con una mitraghetta Mi Vabbè Poi è arrivato con la pompa da dietro Non è Adesso ci sta 24 esimo Che sudata Dove siete Pampini Ok Benissimo E vabbè Ok Adesso però devo trovare I nemici Ok Vai Ok Vai così Ora il problema è Pampa Il pompa Il pompa Is the big problem for The man Ecco Un colpo Mi ha ucciso Ah Che bello È soddisfa Vabbè Lasciami Alleluia Con ventiduesimo Con 17 kg Pompa Altro pompa Giusto Vero Che c'era un pompa Poi c'era l'altro Ah Dai Quanti colpi Ho fatto Vabbè 300 colpi È ancora vivo Mi sono ancora arrivato A 30 quindi Alleluia Ecco Questo Ti asfalta E vabbè Punto eh Vale Mi sa che Qua primo È impossibile E muori Ah Alleluia 21 kill Ok Questo Il problema adesso è questo qua Col pompa È arrivato quello da dietro Che c'è Esatto Ok Allora abbiamo questo Eh Non ce la fai mai più però Questo Questo Io manco a morire Faccio quei danni Boh Mi sa che è quasi finita E vabbè Cosa 74 Sei serio 74 Sei serio Problema Oh Guarda Devo farne Ok Good man Quindicesimo 32 kill C'è più nessuno Quattordicesimo Quattordicesimo Non male Quattordicesimo Non male Io ragazzi Non lo faccio più C'è caldissimo Vi ringrazio per la visione Lasciatemi un po' C'è nessuno Commentate Quello che non direte Iscrivetevi E fate la campanina Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao 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 e basta Ciao 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 ciao